Sandro Marinelli, sindaco di Pianella, il suo comune è sempre attento alle politiche sociali e anche e soprattutto a quelle dei più piccoli delle scuole. Infatti grazie a dei fondi istituiti dal MIUR e dal Ministero per i beni culturali siete riusciti a captare degli finanziamenti per portare il cinema anche nelle scuole. Sì, è la prosecuzione quasi naturale di un percorso di grande attenzione sulle politiche rivolte ai giovani, in particolare al mondo della scuola. Stiamo investendo, grazie a questo cofinanziamento con il Ministero per l'istruzione e con il Ministero per i beni culturali, sulla qualità dell'offerta formativa. Il titolo è La scoperta di vite straordinarie. Sono tematiche che affronteremo grazie a dei film, a dei lungometraggi più o meno noti che riguardano appunto dei temi importanti. Partiremo il 20 marzo con Wonder per affrontare il tema del bullismo. Queste tematiche verranno poi sviscerate e approfondite dagli esperti per ogni materia. C'è una fase successiva che forse è anche quella più interessante, nella quale però i ragazzi saranno traghettati oltre il grande schermo. Perché c'è tutta una parte dedicata all'organizzazione del cinema, alla costruzione di un prodotto cinematografico. Il cinema a scuola, oltre ad avere un contenuto artistico e quindi una valenza per l'educazione al bello, ha anche, nel caso specifico e soprattutto delle proiezioni di domani e di giovedì, una valenza dell'educazione al buono e al giusto. Crediamo fermamente che questo modo di fare scuola possa sensibilizzare sempre di più i nostri studenti, ma unire le famiglie nella visione dei film e far passare un messaggio anche alla parte più adulta della nostra società.